Allora ragazzi, oggi vi voglio presentare un libro che racchiude tre delle mie passioni. Scrivere libri, disegnare e il mio personaggio preferito Pinocchio. Quando sfoglio queste pagine la mia mente comincia a fantasticare. Mi immagino posti lontani al caldo e al mare, magari un posto dove un giorno mi piacerebbe andarci a vivere. Voi cosa ne pensate? Sarebbe bello fare lo scrittore, il disegnatore magari seduto di fronte all'oceano. Questo è il mio sogno? Qual è il vostro? Fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio con questa canzone che mi fa sognare posti lontani. Un figlio lo costruì e cominciò a cantare di giganti e di formiche.